Allora, visto che il clima adesso è così incandescente, è così caldo, facciamo una cosa, li facciamo urlare fino a perdere la voce. Ce la faranno? Visto che il prossimo artista, insomma, anzi, la prossima artista vi farà urlare parecchio. Proviamo adesso. Sì, proviamo. Allora, io dico scream e voi urlate. Scream! Di nuovo, scream! Scream if you wanna go faster! Sherry Hollywood! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!